Dopo le tappe di Roseto, Chieti, Pineto e Ortona, a Pescara sono in programma nuove emozioni su Terra Rossa con l'ultimo atto della seconda edizione del Tennis Tour ai Lavabruzzo, manifestazione internazionale iniziata a marzo. Il programma pescarese prevede due tornei sui campi del circolo tennis Pratis 37, il femminile dal 31 luglio al 6 agosto e quello maschile dal 27 agosto al 3 settembre. Ogni torneo è dotato di 15.000 dollari, in campo alcuni big ma soprattutto tante giovani promesse come spiega il direttore del torneo Luca Del Federico. Sono tanti i giocatori e le giocatrici abruzzesi, si prendono punti ATP nel tabellone principale e punti ATF nel tabellone di qualificazione. Sono tornei molto importanti per consentire ai ragazzi e alle ragazze di acquisire un ranking internazionale e quindi fondamentali nella crescita sportiva degli stessi. Visto che sono tanti gli appassionati di tennis anche nella nostra regione, vogliamo fare qualche nome di tra virgolette big che arriveranno? Ma a Pescara il femminile Anastasia Grimasca che è pescarese al di là del cognome a tutti gli effetti, sarà sicuramente l'estate a 200 WTA, oggi è una mamma che però continua a giocare in modo straordinario e la tessi sarà il numero uno del tabellone principale, ma ci sono tantissime ragazze molto molto giovani che erano anche impegnate ai campionati del mondo che verranno a Pescara, lo stesso sarà per il maschile e soprattutto quindi da vedere i giovani che poi saranno i grandi professionisti del futuro, basti dire che è un nome per tutti, Alcaraz, non più di quattro anni fa, oggi e nei primi cinque al mondo faceva questi tornei. Rimanendo in campo femminile, queste le altre tenniste abruzzesi presenti, Anastasia Piangerelli, Andrea Artimedi, Erika Di Muzio e Giorgia Roselli, particolarmente soddisfatta l'amministrazione comunale. Sentiamo l'assessore Patrizia Martelli. Un grande successo del 2021 era giusto riproporlo, per questo ringrazio sia la regione Abruzzo che ha contribuito alla realizzazione dell'evento ma soprattutto gli organizzatori, ci regaleranno 20 giorni di eventi dedicati al tennis, quindi io do un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti.